Screen Generation entra nel vivo. Il progetto, portato avanti dal Comune di Sarzana, ha coinvolto oltre 1.100 giovani delle scuole, che hanno compilato i questionari e hanno indagato il loro rapporto con il web. I dati e le risposte verranno analizzati sabato 17 dicembre in un convegno a Palazzo Civico a Sarzana. E, con la schiettezza che è propria dell'età, oltre il 90% ha ammesso di utilizzare per molte ore, nell'arco della giornata, lo smartphone per navigare su web, senza limiti posti dai genitori. Ed è questo solo un accenno ai dati e alle valutazioni emesse dallo studio, che verrà dettagliato e spiegato nel convegno di sabato prossimo. In questi due anni di impegno, spiega l'assessore Casini del Comune di Sarzana, ho lavorato molto attorno al mondo adolescenziale e giovanile, analizzandolo da vicino. Ci siamo interrogati su questa specifica parte della società per capire e trovare risposte. Di tutto questo si parlerà nel convegno con l'aiuto di medici ed esperti, approfondendo alcuni punti del questionario e mettendo in relazione tra loro il ruolo delle istituzioni, della scuola e della famiglia. La giornata di sabato partirà dalle 10 e saranno presenti il professor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta dell'Università Milano Bicocca e presidente della Fondazione Minotauro di Milano, che tirerà le conclusioni dello studio dopo i saluti del sindaco Alessio Cavarra, dell'assessore alle politiche giovanili Beatrice Casini e gli interventi della dirigente dell'Istituto Scolastico Parentuciali Arzelà, dottoressa Vilma Patricone, della dottoressa Carla Tazzer di Epidemiologia, promozione ed educazione alla salute dell'ASIL 5 e del dottor Rosolino Vicoricci, psichiatra e psicoterapeuta.